Dashing through the snow, in a one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, the bell's about to ring. Io ringrazio innanzitutto tutte le persone che hanno avuto questo pensiero gentile. Non si è registrato quello che ho detto prima, quindi state tranquille. Allora, questo cesto lo fanno? Allora, prima innanzitutto, anche quest'anno abbiamo avuto il piacere di condividere questo momento natalizio tutti insieme. Però il cesto non lo mangio io. Ai nostri maestri Angela e Franco, a tutti noi, auguriamo un felice Natale e fine anno. Io avevo letto solo fine. Avevo letto solo fine, no, fine anno. Fine anno scolastico non lo so, forse continuerò al circolo, non lo so, può darsi. Allora, che possa risplendere di gioia questo anno nuovo. Auguriamo che l'anno 2020 sia ricco di buone novità, così se ne va a fanculo quello che è passato prima, perché veramente va portato all'ospedale. Sia ricco di buone novità, benessere e tante salute, tanta salute, e quella non manca mai. Per ciascuno di noi e soprattutto che la nostra scuola di ballo vada alla grande. Tutti gli allievi con affetto, tutti gli allievi, anche quelli che non ci stanno, 180 allievi di Baila che ovviamente non sono presenti. Io vi ringrazio, che posso fare? Sono commosso, una lacrima mi scende, mi sta bagnando il viso. Che posso dire? Che posso dire? Veramente sono commosso. Angela, tu sei commosso? Sei commosso? No, lei è di ferro, lei è di ferro. Io sono più morbido, comunque che dire veramente, auguriazzi, vi abbraccio tutti, tanti auguri a tutti voi, alle vostre famiglie, con tanta salute e veramente solo la salute vi auguro, perché i soldi vanno e vengono e non fanno la felicità, come disse qualcuno. La canzone di Natale, Merry Christmas. La canzone di Natale, Merry Christmas. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E se ti lascia lo sai che si fa Trovi un altro più bello Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.